Tu ti consideri una persona abitudinaria? Tutti siamo abitudinari. La cosa importante è imparare a gestire le abitudini e non subirle. L'importante è far diventare, come del resto tu scrivi brillantemente in questo libro che sai ho letto con piacere, le abitudini devono essere orientate a migliorarci. Quindi noi dobbiamo diventare coloro che per certi aspetti si impegnano a costruire delle abitudini che siano funzionali ai loro scopi di vita, mentre la maggioranza delle persone subisce le abitudini, ne è condizionato spesso senza averle scelte, ma le abitudini sono, proprio perché ci asserviscono dolcemente e diventano nomeostasi, una leva vantaggiosa straordinaria se io le oriento e le costruisco. Qual è la difficoltà? Qual è la resistenza? Che per costruire una abitudine io devo replicare quel tipo di copione tante volte. Non basta come dice qualcuno, 9, 17 volte, sì. 21 giorni. 21 giorni. Tu sai che l'altro mondo che fa parte della mia vita, le arti marziali, si dice che semplicemente per imparare a fare questo movimento che nel taiji e nel kung fu è la parata universale, bene, perché ti venga abitudinario se uno ti dà un pugno o un calcio ti aggredisce, devi averla ripetuta almeno 2000 volte con l'effetto di esperienza positiva. Quindi prima di arrivare all'esperienza positiva, che così pari un'aggressione, devi averci lavorato ancora più volte, quando ti viene bene almeno 2000 volte perché ti diventi un'abitudine che si innesca spontaneamente.